Benvenuti alle ultime notizie e al gossip italiano. Tra breve, vi sveleremo le strane immagini filmate sulle montagne del Dommel. Il video ha catturato l'attenzione mondiale mostrando figure misteriose, forse alieni, che camminano sulla cima di una montagna brasiliana. La rete è divisa. Realtà o fake? Addirittura l'ex calciatore inglese Peter Krush ha commentato, rendendo virale la sua risposta ironica. Condivide le dettagliate spiegazioni sulla sua piattaforma X, l'ex Twitter di Elon Musk. Una battuta che ha fatto impazzire la rete con centinaia di migliaia di liché, retweet e commenti. Il senso dell'umorismo di Krush ha conquistato tutti, ma l'avventura aliena non si ferma qui. Il Brasile si conferma come un punto caldo degli UFO, con numerosi avvistamenti a Miami. Durante le festività, il 2023 è stato un record per gli avvistamenti di UFO negli Stati Uniti, e il 2024 inizia con una foto a Miami inizialmente scambiata per un incontro alieno. Tuttavia, la verità è stata svelata dalla polizia, si trattava solo dell'ombra di un uomo durante una sparatoria.